La conduttrice di Pomeriggio 5, Mirta Merlino, ha mandato un dolce messaggio di buon compleanno al suo compagno, Marco Tardelli, per i suoi 69 anni. La donna è sempre apparsa molto riservata, ma per il suo amore ha fatto un'eccezione. Auguri amore e grazie di ogni giorno insieme, nel tuo abbraccio voglio restarci per sempre.